Pasture. Questa sera finalmente un'altra puntata, nuove informazioni, nuovi segreti sulle pasture. È una puntata a cui io tengo tantissimo perché sapete che io sono un amante delle pasture in pesca, secondo me le pasture fanno veramente la differenza. E questa sera ho due ospiti, non uno ma bensì due, allo stesso prezzo, che faccio entrare immediatamente. E abbiamo Fabrizio Schirru e soprattutto Andrea Passini di Antiche Pasture. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Andrea Passini è ovviamente il titolare di Antiche Pasture, azienda leader in Italia sulla produzione delle pasture e mi vanto che è anche un mio amico, non come questo Fabrizio qua che fa finta di essere mio amico, che mi tocca comprare un sacco di prodotti da lui per sdebitarmi, per tenerlo sul canale. Questa sera parliamo di pasture con Andrea, vediamo un po' quest'anno come è andata, cosa siamo riusciti a fare, cosa ci ha proposto e cosa voglia nel pentolone. Perché anche quest'anno sembrerebbe che ci siano delle belle novità, qualcosa ho anche io qua, che ho anche già testato, ma vorrei che lo presentasse direttamente Andrea. Certo, allora è stata dura fare questo prodotto perché naturalmente è un prodotto molto tecnico, si parte dalla base che io volevo un prodotto che fosse stabile, per stabile voglio dire che tanti hanno provato a fare una cera spalmabile da spalmare sugli artificiali, ma la difficoltà era quella di mantenerla per tantissimo tempo e dopo tante tante prove sono riuscito a fare un prodotto che secondo me è eccezionale, attenzionale per la sua tenuta sugli artificiali e soprattutto anche per la granuletta del suo odore e si chiama questo prodotto sticky box, eccolo qua, eccolo qua, scusatemi, ma eccolo. Questa è praticamente la confezione dello sticky box, è una confezione da 50 grammi in tre gusti diversi, quindi c'è tre gusti sardine e krill, sardine e garlic e sardine. Il gusto è molto forte, il prodotto si presenta così, eccolo qua, lo faccio vedere un po' aperto, è una cera, come vedete, dentro a questa cera c'è il suo pettine per spalmarla, la si può spalmare su tutti gli artificiali, quindi sottanare, colpare, hinchiku, tataki, mataki, artificiali da traina e vi posso garantire che questo si mantiene inalterato per ore, anche sulla traina, soprattutto anche per la pesca spinning, dove si cerca molto velocemente, ecco, questa cera spalmata sugli artificiali riesce a mantenersi anche per due o tre ore e non cambia l'odore, non cambia l'odore, è praticamente un'esca spalmabile, io l'ho chiamata così, poi è, diciamo, in sé per sé anche una pastura da richiamo, ma soprattutto è un prodotto ad altissima concentrazione, se abbiamo utilizzato regolarmente gli artificiali si hanno sinceramente dei risultati eccezionali, abbiamo fatto delle prove, specialmente anche sul volentino di profondità, quindi anche su delle esche che sono andate a tre, quattro, cinquecento metri di profondità, anche per la pesca di occhioni, eccetera, e ha avuto degli ottimi risultati anche lì, cosa ne pensi di questo prodotto? Una volta che te l'ho spiegato in parole semplici. Allora, innanzitutto, come per quasi tutti i prodotti che mi hai proposto e che ho testato in questi mesi, l'appetito viene mangiando, nel senso che soltanto quando uno si avvicina a questo mondo e comincia a capire la complessità, ma anche i vantaggi che ti può dare un certo tipo di pastura e un richiamo, appunto, che non è solo il richiamo visivo dell'esca o del movimento dell'esca, che secondo me anche quello è fondamentale nella pesca, ma proprio anche l'odore, cioè, devo dire che cambiano tante cose. Ho parlato proprio qualche giorno fa con un mio amico a Trieste, sono arrivati i primi sgombri, ne ha pescati un paio, per sbaglio, stava andando a pagelli, ma invece è riuscito a prendere gli sgombri, e aveva con sé ancora un po' della pastura che gli avevo dato qualche mese prima, la fish on rod, e, come gli ho insegnato, l'ha cominciata a mettere sul piombo. Ed effettivamente la differenza è enorme, cioè, effettivamente, con quella pastura che si scioglie nell'acqua, che lascia una traccia, richiama i pesci, pesci arrivano, dopodiché trovano le esche e mangiano. Anche Fabrizio, nel Bolentino, so che hai fatto una gara poco tempo fa proprio, Fabrizio. Com'è andata? Sì, questa domenica abbiamo fatto il nostro Bolentino Day, è andata molto bene. Innanzitutto ringrazio Andrea, perché è stato uno degli sponsor principali della mia manifestazione, e vorrei anche raccontare un po' com'è andata, perché entriamo in un discorso pastura-bolentino. Ovviamente, in una gara importante come la nostra, nei giorni precedenti alla gara, si vanno a fare i test, quindi si va a fare campo-gara. E ho dato a tantissimi amici, soprattutto per una questione di praticità di tempo, come abbiamo detto, la experience, la fondo. Tanti ancora non l'avevano, non l'avevano ancora provata, quindi ne ho dato parecchie, e hanno fatto un po' di campo-gara. E ti posso garantire che, a prescindere che c'è Andrea qui davanti, i risultati sono stati veramente importanti, cioè tutti i ragazzi mi hanno detto che è stata, come si dice qui, da noi una bomba, perché pastura di super qualità, ma soprattutto ti evita la grande perdita di tempo, perché io, che sono un bolentinaro, sono abituato a fare la pastura. Fare la pastura vuol dire preparare, stare ore dietro la pastura, sporcare, quindi, se c'è una moglie un po' complicata, non puoi fare pasture, devi sporcare, distruggi un sacco di roba, quindi avere una pastura di super qualità già pronta è ottimo. Oltretutto, poi, in acqua fa veramente la differenza. Questo è il giorno prima. Il giorno della gara, ovviamente, tanti hanno usato questa pastura. Io ho usato un po' di questa, ma ho usato anche un altro tipo di pastura un po' più complessa, dopo magari vi faccio vedere tutti i componenti e vediamo cosa vuol dire fare una pastura per una gara di pesca. Però l'experience, soprattutto l'affondo, perché noi siamo quella, è stata veramente un'ottima soluzione per pescare, ma soprattutto per risparmiare un sacco di tempo e non dover sporcare. In pratica, con la Fish on Road, riesco a fare veramente tantissime cose. Il bollentino è la pesca del tonno, la pesca dello sgombro. La uso sia per, diciamo, la pesca in superficie che mezzo fondo. Considerate che dove vado a pescare io, in questo periodo, non vado oltre i 25-30 metri, perché sono su nel Golfo di Trieste. Probabilmente tra una ventina di giorni andrò giù nelle parti della Croazia bassa, Trogear, Spalato, Comigia, tutte quelle isole. E lì il discorso sarà un po' diverso, perché lì andremo a pescare a 50, 60, anche 70 metri. Quindi sicuramente sarò costretto a passare a quella per profondità. In questo momento sto utilizzando sempre la mezzo fondo, che è la prima che ho creato insieme con Andrea, e di cui sono super orgoglioso, perché tutti quelli che l'hanno provata fino adesso, Andrea, sono veramente stracontenti. Abbiamo avuto un'intuizione giusta, cioè utilizzare un prodotto fresco di altissima qualità, associarlo con tutte le maghezze, le magie che ci metti dentro te, che effettivamente creano il giusto mix di pesantezza, solubilità, durata. Poi il fatto che si può attaccare direttamente sul piombo, o utilizzarla come la uso io, per esempio in drifting, miscelata da altre sarde, questa qua anche per me è sicuramente una bomba, una super super esca. Mi dispiace che questo video sembra quasi che sia un po' preparato, nel senso, e stiamo continuando a dire tutto bello, tutto bene, tutto benissimo, e sembra quasi una marchetta, ma in realtà non è una marchetta, perché sono sicuro che chi l'ha provata, se ci lascia un commento sotto il video, ci dirà esattamente quello che stiamo dicendo noi adesso. È un po' una rivoluzione, secondo me, questa pastura, perché non ha niente a che vedere rispetto a tutte le generazioni precedenti di pastura. Adesso io so che Fabrizio, essendo uno che fa soprattutto un garista, un ex garista, o garista tuttora, non saprei come definirlo, probabilmente loro riescono a fare delle cose pazzesche, però io parlo per il pescatore medio, per il pescatore che non ha neppure la possibilità, oltre che il tempo e la voglia di doversi fare una pastura per andare a pescare, ma lo fa soprattutto per diletto, va a fare la pescata a orate, o va a fare una pescata ai pagelli, e vuole avere una chance in più. Ecco, anche per chi fa il drifting al tonno, devo dire, ecco, chi fa il drifting al tonno, devo dire che non è preparato sulle pasture, usa tantissima sarda fresca, ma è una limitazione. Io ho fatto gare di tonni per tantissimi anni, ne ho fatte veramente tantissime, e devo dire che tutti stanno molto attenti quando pasturano il tonno su due, tre cose. Cioè, la prima è la quantità di pastura che devi mettere in acqua, che deve essere direttamente proporzionale al numero di pesci che hai intorno, perché se tu hai uno, due pesci e pasturi troppo, li allontani, non li avvicini sotto la barca. Poi cerchi di fare una variazione del tipo pezzi molto piccoli, col trita sarde, pezzi più grandi, tagliati, e va tutto bene. Però, alla fine, la scia di pastura che noi riusciamo a creare è abbastanza stretta e segue una linea abbastanza lunga, è molto chiusa come pastura, non è una pastura aperta. Io, quando pasturo, per esempio, per i tonni, uso la sessola, e lancio pezzi di sarda un po' lontano dalla barca, anche 10-15 metri a destra e 10-15 metri a sinistra, proprio per allargare la pastura e per fare in modo che il tonno comincia a girare all'interno della scia di pastura per cercarsi questi pezzi e che prima o poi magari andrà a trovare anche l'esca innescata con l'amo. La fish and rod, per esempio, come l'ho intesa io, la uso come additivo su questo tipo di pastura, cioè sui pezzi di sarda, quelle sarde tagliate a pezzi, e mi serve per aprire il cono, perché la fish and rod, una parte di questa, tende a precipitare velocemente verso il fondo. Quindi mi fa arrivare i pesci fino sul cono dell'ecoscandaglio, mentre utilizzando la sarda intera o tritata col sardamatic, mi ritrovo i pesci sempre molto lontani dalla barca e spesso ho i pesci in scia, ma non riesco a vederli sull'ecoscandaglio e questo per me è un problema, perché io ho bisogno di vedere i pesci e soprattutto a che altezza stanno i pesci. La fish and rod, facendo questo cono molto ampio e lungo, adesso dovrei mettere qualche foto che dovrei avere ancora sul telefono, facendo questo tipo di cono mi attira i pesci fino sotto la barca e questo mi permette di riuscire a vederli e calibrare quindi nel modo corretto le canne. Stessa cosa per gli sgombri. Riesco a tirare i sgombri anche quelli che sono in profondità, che sono di solito quelli anche di pezzatura maggiore, che normalmente stanno sul fondo, ma grazie a questa pastura che mi arriva sul fondo e in parte rimane in superficie, riesco a tirarli su. E anche questo ho già visto proprio sull'ecoscandaglio. Quindi per me la fish and rod è speciale. Per quanto riguarda la pastura che vi ha mostrato Andrea, ve la mostro anch'io, questa qui è anche una cosa molto particolare. Innanzitutto cosa serve? Serve per gli artificiali, ma anche si può usare sui piombi, ma soprattutto tutti gli artificiali. E qua mi vengono in mente tutte le tecniche verticali. Verticali con i siliconici in PVC per intendersi. Adesso inizierà la stagione a breve e noi abbiamo spesso il problema che il nostro silicone non ha nessun odore, cioè non riesci a dargli facilmente un profumo, perché anche con gli aromi che si trovano in questo momento in commercio hanno tutti un grosso problema. Si lavano molto velocemente. Questo prodotto che ho già testato ha la caratteristica di non essere idrosolubile. Cioè è idrosolubile, ma molto lentamente, ha una durata molto elevata. Quindi per chi usa le esche siliconiche nelle pesche verticali, secondo me questo è proprio il top. Un altro uso, però non l'ho ancora testato, ma vi terrò aggiornati, sarà sicuramente sul trolling, trolling d'altura, quindi per tutti i pesci che si trovano in altura facendo traina d'altura. Perché anche sugli artificiali tirati a traina, anche a 6-7 nodi, rimane comunque per ore. Per togliere questa cosa dall'artificiale l'unico modo è prendere lo scotex a fine giornata e pulire l'artificiale. Se no, purtroppo, o per fortuna, non lo so, dipende dai punti di vista, l'odore rimane lì e quindi si hanno tutti questi problemi legati al fatto di avere le esche profumate, che non sono di solito problemi. Bisogna tenere le esche in contenitori stagni in modo che a fine giornata si lavano, si mettano lì, si chiudono e il PVC tra l'altro così si impregna ancora di più. Secondo me il pesce quando si avvicina e vede un'esca e è interessato e quest'esca ha anche odore di esca che è sicuramente un vantaggio in più. Giusto Andrea? Sì, sinceramente sì. Poi, la stabilità di questo prodotto, come dicevi su, non è un prodotto idrosolubile, ma è un prodotto che a sua volta non si miscela all'acqua, quindi non miscelandosi all'acqua rimane stabile su tutte le superfici dove viene spalmato. quindi anche in forti correnti o anche sulla traina anche a profondità elevate questo è un prodotto che rimane stabile per ore e ore e ore. Cioè, non è un... si sente proprio una volta che l'hai utilizzato per un'ora se l'annusi ancora sa come è appena spalmato. E questo è il bello di questo prodotto qua, la stabilità. Una cosa che secondo me nessuno era mai riuscito a fare un prodotto così stabile da spalmare su delle esche. Poi è molto semplice spalmarlo perché non è duro come prodotto ma è un prodotto che diciamo è molto malleabile quindi ecco si può spalmare su qualunque si può dire su gli artificiali addirittura molti di questi artificiali siccome gli aromi che vengono stati sopra sono volatili e si disperdono subito velocemente in acqua perché sono quasi gli aromi sono idrosolubili e quindi si disperdono molto velocemente. questo invece oltre a dare questo forte odore anche alla gomma siliconica è che la rende morbida praticamente l'acqua scivola sulla gomma e si muove anche meglio la gomma abbiamo provato anche questa cosa che secondo me ha dei vantaggi proprio anche sulle gomme per essere movimentate in una certa maniera sono molto più diciamo realistiche con questa scena sopra capito? Davide? certo tu Fabrizio invece che esperienza hai in senso generale per le pasture quando vai a fare le tue pescate? allora parliamo ovviamente in questo caso tu hai parlato della pastura del tonno io mi entro solo nel discorso volentino in questo momento se no diventa una cosa troppo generica allora la pastura secondo me per pescare quando sei per conto tuo o in una gara dove si può pasturare perché non tutte le gare si può pasturare in assoluto la pastura è secondo me una delle cose più efficaci per un'ottima pescata ovviamente bisogna saper farla la pastura bene e soprattutto devi saperla gettare in acqua perché la pastura io lo dico sempre l'abbiamo detto in mille video è un boomerang cioè è un'arma se tu la usi bene è un'arma a tuo vantaggio se invece non la sai usare ti si ritorce contro quindi io dico a tutti usate la pastura imparate a farla però poi usatela con intelligenza perché la pesca è uno sport per persone intelligenti quindi cosa facciamo noi arriviamo nel punto di pesca con la pastura già pronta ovviamente poi spieghiamo anche dopo come si prepara una pastura fatta bene e non si arriva sul punto e si butta subito la pastura innanzitutto dobbiamo capire bene tutta una serie di cose quindi io non butto immediatamente la pastura ma inizio leggermente a pescare e gettando dei piomi magari da 100 120 grammi da lì iniziamo a capire come come si muove la corrente il vento la corrente perché la problematica è che quasi tutti soprattutto le persone meno esperte tengono conto solo del vento il vento spesso e volentieri non ci interessa perché normalmente la corrente potrebbe essere diversa dal vento e poi comanda la nostra pastura perché una volta gettata in acqua è la corrente che comanda quindi prima di gettare una pastura noi dobbiamo essere sicuri esattamente della corrente che noi andiamo che abbiamo sotto la barca che potrebbe anche essere diversa in modo stratificato cioè nei primi 10 20 metri potrebbe esserci una corrente sul fondo potrebbe esserci un'altra cosa succede se noi pasturiamo bene ci portiamo tutti i pesci sotto la barca dove stiamo pescando col risultato di una super pescata se invece noi pasturiamo in un modo pensando che i pesci siano lì e invece ce li siamo spostati rischiamo veramente di non prendere un pesce e magari i pesci ci sono ce li siamo semplicemente spostati noi a 5 10 20 metri dalla barca per assurdo con la pastura fatta in un certo modo in un lato della barca tu potresti pescare nel lato opposto potresti non prendere un pesce eppure stiamo parlando di 3 metri se la nostra pastura si mette in corrente si mette in una certa posizione i pesci arriveranno solo esclusivamente da quella posizione quindi capite bene qual è la forza della pastura in gara tutto questo deve essere fatto velocemente quindi noi siamo abituati a ragionare velocemente ovviamente chi non deve andare in gara tutto ciò lo può fare con calma e assicurarsi del tipo di corrente e poi iniziare a pasturare con calma non so se Davide adesso vuoi che ti faccia vedere come pasturiamo oppure lo vediamo dopo no no secondo me è molto interessante fammelo vedere fammelo vedere ok allora partiamo dal presupposto una persona che sta iniziando abbiamo detto che c'è già la pastura pronta l'abbiamo fatta vedere questa qui è quella di cui abbiamo parlato l'experience questa è la fondo la fondo è quella con più con più collante quindi è un po' più dura si può usare nel piombo oppure si possono fare semplicemente le pallette e buttarle in acqua la cosa bella è che non si deve usare niente io inizialmente pensavo parlando con Andrea un po' di tempo fa gli avevo chiesto se bisogna usare acqua no la pastura è pronta basta schiacciarla poco a poco neanche troppo e la pastura è pronta un altro grande vantaggio di questa pastura qui è che è in un contenitore sigillato quindi se anche noi non la finiamo la possiamo richiudere e la possiamo usare anche svariati settimane dopo a differenza di una pastura che noi andiamo a preparare che una volta che noi l'abbiamo preparata o la usiamo oppure ci tocca metterla magari in un in un congelatore quindi in un freezer capite che nel freezer di casa non lo puoi fare quindi o c'hai un un congelatore a parte perché comunque diciamo un po' di odore lo fa allora vediamo un secondo allora la prima cosa che dobbiamo avere per per fare una pastura è un secchio lo vedete questo secchio è stretto giù e poi tende ad allargarsi in modo tale che noi possiamo muovere bene la pastura perché è importante quando noi andiamo a preparare che la pastura sia ben mischiata altrimenti crea dei grumi c'ha delle parti più molli delle parti più secche quindi quando andiamo a creare il pallettone questo pallettone non sarà ben compatto vi faccio vedere allora io per esempio nel giorno della gara ho utilizzato questa pastura che è sempre una pastura di antiche pasture questa è una sarda classica ho utilizzato questa come sarda umida e poi sono andato ad aggiungere come io faccio sempre tutta una serie di altre buste vedete questa è sono i gli sfarinati questo nel caso è cozza nera ma ce ne sono tanti vedete questo qua gambero e muriddu ecco se i bibi io in questa domenica ho utilizzato queste tre sfarinati e li ho aggiunti alla sarda mischi bene ovviamente aggiungendo gli sfarinati la sarda tende piano piano a seccarsi quindi piano piano noi andiamo ad aggiungere poco poco d'acqua fin quando non abbiamo una soluzione abbastanza gommosa poi per chi proprio vuole essere top si aggiunge un po' di lisina e si aggiunge un po' di esaltatore tutta questa roba qui noi la utilizziamo spesso in gara un'altra cosa che possiamo aggiungere alla nostra pastura è un po' di quarzite la quarzite serve per appesantire la pastura cosa serve appesantire la pastura serve per poter far arrivare più velocemente la palla sul fondo in modo tale che perda meno polvere possibile perché noi solitamente peschiamo a fondo quindi a noi interessa appoggiare la palletta sul fondo e poi piano piano la palla dopo qualche minuto si spacca e la corrente poi la porta cioè la ci allontana dalla barca mi sto dimenticando qualcosa ecco mi stavo dimenticando una cosa perché non ce l'ho qui davanti perché l'ho finita una volta che noi abbiamo mescolato tutto questo popo di roba serve mettere un collante nel nostro caso il gommix che ovviamente dopo una gara l'ho finito perché è una delle cose più vendute il collante serve per unire tutto l'insieme e tenerlo bello compatto io normalmente poi una volta che ho mescolato tutto mi preparo già le pallette e poi le metto dentro il secchio quindi ho il secchio pronto già con tutte le pallette questa è una pastura poi se ne possono fare 10.000 tipi tipicamente da gara ovviamente questa pastura si può utilizzare si può mettere o in un pasturatore come il pasturatore della Stomfo si mette dentro si cala e si apre l'abbiamo fatto vedere anche in altri video oppure semplicemente possiamo come ho detto prima capire dove va la corrente usare la palletta e lanciarla la cosa bella della palletta quando è bella compatta è che noi la possiamo lanciare anche a 10 metri a monte della corrente perché se la corrente è forte noi non la possiamo buttare sotto la barca perché ce la porterebbe a 10 metri lontano quindi noi lanciamo a monte di corrente anche 10 metri e aspettiamo che le pallette arrivino sotto la nostra barca questo è un ovviamente detto così sembra facile la verità è che è una cosa un po' complessa quindi quello che io consiglio a tutte le persone amanti del bollentino di provarci piano piano iniziate magari con una pastura un po' più semplice perché è anche vero che utilizzare tutta questa roba inizia a essere una manovra un po' un po' costosa però la verità è che i risultati poi sono devastanti noi ormai per noi la pastura è fondamentale è difficile che io faccia una pescata senza pastura quindi quello che vi consiglio ma credo che anche Andrea o Davide iniziate con una pastura già pronta perché vi aiuta una volta che avete capito un po' come funziona allora potete iniziare a fare una pastura un po' più complessa questo più o meno è il nostro è il nostro discorso pasture quella che avanza come ho detto prima potete tranquillamente congelarla io mi è capitato di fare gare con le pasture di mesi prima perché magari non le avevo finite messe in congelatore e riutilizzate anche 3-4 mesi dopo e la palletta rimane perfetta quindi abbiamo uno spreco zero l'unica cosa è che devi dire devi dire di fare prima le pallette metterle su una cassa di polistirolo per esempio e dopo congelare le pallette singole perché se congela tutto il vaso in una volta per scongelarlo deve aspettare un giorno io ho la fortuna di avere un frigo a pozzetto qui in negozio io proprio congelo il secchio metto le pallette nel secchio e congelo completamente quindi quando poi anni fa prima di usare la fish on rod usavo anche io questo sistema però io facevo le pallette e tra l'altro le portavo col frigo in barca scongelavo solo quelle che mi servivano le altre le riportavo a casa congelate le tornavo a mettere nel congelatore però va bene io sono un po' meno preciso le ho congelate scongelate svariate volte però ti posso garantire che pensavo che si rovinassero nel tempo invece sono rimaste perfette e un'altra cosa l'odore di questa pastura quando la pastura questo penso che Andrea ce lo insegni quando la pastura è buona l'odore delle pallette non è sgradevole cioè l'odore delle pallette si è forte però l'odore non è sgradevole non dico che sia buono però è gradevole non è una cosa quindi questo è anche un modo per per capire per chi non conosce le pasture capire qual è un prodotto di qualità e qual non è un prodotto di qualità perché nella mente delle persone la pastura deve essere una cosa che puzza una cosa che fa strong invece la verità è che le pasture migliori non puzzano un odore molto gradevole perché anche secondo me i pesci giustamente piace un odore buono non un odore scadente di cose marce e questo tipo di pastura per noi che siamo abituati a usarle non è assolutamente un odore sgradevole è forte perché è a base sardina però vi posso garantire che non è un odore che lascia anche sulle mani un odore troppo sgradevole quindi questo è sinonimo di qualità e qui faccio parlare Andrea perché penso che ne sappia decisamente più di me sì certamente no la qualità è tutto specialmente le materie prime comunque venendo di al suo discorso si può evitare anche di congelarla la pastura in avanza guarda sinceramente c'è un sistema cioè perché tu sei costretto poi a congelarla perché quando ti misceli la sarda con lo sfarinato vedi che non è umido e quindi devi aggiungere dell'acqua no? è chiaro che è quello che poi porta il prodotto a prepararsi e acciuparsi nel tempo c'è un prodotto invece che Davide conosce bene che è la sardina liquida ecco questo è un prodotto è un composto che se tu invece dell'acqua metti la sardina liquida ecco poi quello che ti avanza lo puoi perfettamente riporlo in un secchio senza bisogno di congelarlo lo puoi utilizzare anche dopo 2-3-4 settimane se non usi l'acqua questo praticamente si evita il congelamento delle pallette quindi puoi riporre il prodotto in un secchiello e riutilizzarlo un po' successivamente perché? perché questo prodotto naturalmente eviti di metterci praticamente un prodotto che è l'acqua che poi è quello che porta poi alla sedimentazione del prodotto la protezione ai batteri e alle muffe e l'acqua non è nient'altro mentre la sardina liquida non è anche una colatura di sardina quindi un liquido diciamo a sé quindi già stabilizzato quindi mettendolo nella pastura nella tua miscela tu lo misceli in questa maniera e ottieni un risultato anche migliore molto migliore molto migliore il risultato il risultato mescolando anche la fish on rod con la sardina liquida è incredibile io ho provato ho provato tutte e due le cose ho provato sia l'acqua l'ho scartata subito perché ho visto che non mi dava dei risultati in più riuscivo a farla diventare più morbida la poteva essere più facile maneggiarla però l'acqua non è che ho provato la sardina liquida ho provato anche l'olio di sarda ma l'olio di sarda ho visto che si scioglie cioè si stacca molto velocemente dalla pastura quindi mi viene in superficie e poi ho un altro grandissimo problema se io ho la pastura che è troppo oleosa le molecole d'olio che sono dopo in sospensione nell'acqua si vanno ad attaccare sui fili e il fluorcarbon si opacizza e sono costretto a lavarli molte volte durante la sessione di pesca sembra incredibile però io quando pesco i tonni due tre volte alla giornata con un po' di detersivo per i piatti pulisco gli ultimi metri del fluorcarbon perché le particelle di grasso che sono contenute nelle sarde anche nelle sarde fresche per intendersi che sono in sospensione nell'acqua vanno ad attaccarsi sul fluorcarbon e il fluorcarbon si tipo opacizza diventa visibile quindi è una buona norma anche questo di dare una lavata con una spugnetta poi si mette in mare e il mare risciacqua immediatamente il sapone e non c'è più traccia di niente però è una cosa che si fa la sardina liquida invece non ha questo problema perché non è olio è una roba diversa e funziona molto bene io ho cambiato modo di pescare negli ultimi due anni tre anni da quando ho avuto la fortuna di conoscere un po' meglio Andrea e lui ha avuto la pazienza di insegnarmi e dimostrarmi un po' di cose il mondo delle pasture è veramente complesso complicato ci sono tantissime cose che bisogna conoscere e se uno vuole approfondire questo mondo devo dire che è come il mondo degli chef quando in cucina è la stessa identica cosa si possono fare delle pietanze buonissime con pochi prodotti però se tu vuoi fare delle cose un po' più elaborate se non stai attento ad usare le cose nel modo corretto il risultato non sempre è positivo non è vero che qualsiasi cosa che si mette in mare attira tutto non funziona così è difficile riuscire ad avere una ricetta io ho amici che fanno tante gare anche qua in golfo per esempio anche loro si fanno la pastura proprio con le sarde fresche usano addirittura anche le acciughe o la sardella quella piccola fanno delle pasture anche molto buone però ho visto che dopo alla fine a parte che non riescono più a essere costanti perché se io oggi faccio una pastura con un tipo di pesce e dopo una settimana ne faccio un altro un altro prodotto perché il pesce viene da un'altra parte un altro tipo di pesce già mi cambia il tipo di pastura e non mi funziona più come dovrebbe funzionare e il fatto di cambiare spesso pastura non mi permette di fare neppure l'esperienza sulla pastura che sto utilizzando io adesso mi sono abituato con la Fission Road e per me da mezzo fondo per dire il vero io la uso anche a profondità maggiori anche in superficie ma perché ormai so come funziona quella pastura e so dosarla nel modo corretto e probabilmente non ho neanche tanto tempo di fare tutti i test anche su tutte le altre varianti se uno inizia come Fabrizio con l'affondo probabilmente lui adesso ha preso mano con l'affondo e lì può andare via tranquillo poi anche lì si possono fare delle varianti se vogliamo proprio renderla ancora più performante abbiamo già visto anche negli altri video abbiamo quelle buste dove c'è la cozza già sgusciata eccole qua oppure dopo c'è la vongola se non sbaglio io uso spesso la cozza eccoli qua guarda che bravi e anche i feromoni anche la la provetta dentro con gli feromoni anche quelli hanno un esaltatore di odore che è una roba pazzesca no sono tutti piccoli trucchetti che adesso abbiamo cercato di integrare già nelle nelle pasture pronte io sarei curioso di andare a fare una pescata proprio con Fabrizio con la sua pastura fatta da lui e con la mia invece così come come l'ha creata Andrea e provata perché quella che lì nasce da tutto un lavoro dietro non è semplicemente non è che ci siamo messi là a mettere dentro tre cose e a fare la pastura Andrea lì c'è stato un bello studio dietro soprattutto anche sulla qualità dei prodotti che sono contenuti la sarda utilizzata lì è una sarda maturata fresca non congelata cioè ci sono tanti dettagli che in realtà non sono dettagli ma che fanno la vera differenza tra una pastura diciamo altamente performante e una pastura invece più standard chiamiamola così ma più che altro secondo me la meccanica del prodotto è eccezionale perché mettere insieme questi cinque sei elementi e legarli in modo che il pescatore possa utilizzarla in svariati modi a secondo di come la manipola a secondo di come la pressa a secondo di come la tira in acqua ecco questa è una pastura che si può utilizzare dalla superficie fino ad arrivare praticamente a profondità che ci vuole solamente dei pastura a sgancio per arrivarci ora Fabrizio mi diceva appunto in una telefonata di tempo fa mi diceva guarda che io con la fondo alle volte arriva sul fondo ritiro sul piombo e ho ancora la pastura attaccata quindi ecco diciamo che questo è un prodotto che se in quel momento lì io attacco mezzo chilo di prodotto di pastura al piombo gli do una scrollata è come aver buttato mezzo chilo con un pasturatore però si evita di buttare il pasturatore con la saboletta sganciarlo ritirarlo su ecco è molto più semplificata la cosa no ma non solo non solo abbiamo la pastura esattamente dove deve essere proprio attaccata alle nostre esche che anche questo il pasturatore vuoi perché c'è un cordino che fa più resistenza nell'acqua lui è più grande cioè ci sono tanti motivi per cui il pasturatore può anche spostarsi rispetto alla nostra esca al nostro piombo con questa pastura il fatto di poterla farla legare al piombo e calarla esattamente nel punto dove abbiamo le esche secondo me anche lì quello è un grande vantaggio assolutamente sì sì il vantaggio poi è anche sul fatto di avere sempre un prodotto fatto sempre allo stesso modo stabile quindi ecco come dicevi tu una volta che uno fa la pastura perché prima si faceva questo o il cardamatic o tagliavi la pastura le sarde dei pezzetti o utilizzavi le classiche a rete con le sarde dentro e poi anche queste fanno di per lì una fumata ma l'unica cosa che si ottiene non è una pasturazione una pasturazione superficiale e basta e poi una pasturazione che segue solo la scia della corrente mentre questa noi possiamo fare dei bei coni dove possiamo andare a raggiungere praticamente per arrivare il pesce dove serve in questa pastura qua e non è così io ho visto gente che nel sardamatic per fare una pescata per dire a traina al tonno usano 20-30 kg di sarde cosa secondo me ottieni secondo me un risultato contrario a quello che puoi fare perché praticamente tu metti tanto di quel materiale in acqua che poi è chiaro che è molto difficile di poi trovare la tua escala invece così facciamo proprio una linea retta di pasturazione proprio dove abbiamo noi praticamente il nostro palamento no ma sono molto curioso di vedere come andrà questa stagione anche per gli sgombri a me è un altro tipo di pesca che piace tantissimo e anche la pesca allo sgombro è molto divertente purtroppo non ho tanto tempo da dedicarci però anche quella cosa lì questa per lo sgombro sarà una cosa eccezionale la superficie ecco questa si questa ha una meccanica molto particolare perché questa tende in pratica a stare in sostenzione e poi creare praticamente una nuvola non calando sul fondo ma rimanendo praticamente a alzarsi ed abbassarsi nella nostra dove andiamo a pescare e quindi diciamo che riusciamo a riunire proprio i pesci proprio sotto la barca capito con questo prodotto qua e poi va dosato questo è un prodotto che va detto poco per volta ma costantemente in quanto vedo dagli sgombri e farlo sì gli sgombri sono molto sensibili abbiamo l'occasione che si va a pescare insieme se era programmato un'uscita proprio vediamo un attimino ci farò vedere che con francesco non vedo l'ora non vedo l'ora ormai si sta avvicinando la data eh sì andiamo con francesco martelli e quindi passeremo una bella giornata insieme vediamo ne vedremo delle belle penso sì assolutamente assolutamente e tu invece Fabrizio allora come è andato alla fine questa gara i risultati sono arrivati per tutti c'è stato qualcuno che ha fatto qualche esploi come ti sei qualificato te allora quest'anno è stata mediamente una gara più complicata rispetto all'anno scorso i i primi tre posti sono sempre stati i tre equipaggi uguali all'anno scorso quindi semplicemente ci siamo cambiati un po' di posizioni chi è arrivato terzo l'anno scorso quest'anno è arrivato primo io sono arrivato appeso secondo però avevo una penalità quindi poi sono stato spostato a terzo posto e il secondo è rimasto secondo quindi diciamo ci siamo giocati il podio gli stessi tre però sono curioso la penalità per cosa scusa perché nelle nostre gare noi ormai abbiamo messo le misure minime io sono uno di quelli che tiene molto a questa roba qua e avevamo un regolamento molto rigido il pesce diciamo più complicato da misurare è il sarago perché il sarago la taglia minima è 20 il problema è che il sarago dopo 4-5 ore di pesca tende a rimpicciolirsi si stringe quindi io ho misurato tutti i pesci perché io da quel punto sono maniacale li ho misurati tutti appena presi avevo un sarago da 20 e 2 quel sarago da 20 e 2 poi 5 ore dopo è diventato 19 e 8 e quindi ho preso una penalità di una regola che poi ho fatto io giustissimo quindi perfetto ho perso una posizione ma chi mi conosce sa che io punto solo al primo posto quindi secondo terzo quarto quinto non mi cambia mi avrebbe dato fastidio dal primo al secondo mi sarebbe però diciamo che me la son rischiata perché quel pesce era giusto giusto ma scusa a questo punto sono curioso che cosa hai vinto con il tuo terzo posto cosa ho vinto c'era qualcosa in palio sì c'erano tantissimi premi in palio ti posso garantire che non lo so neanche perché io da un po' di anni a questa parte quando faccio gare soprattutto poi le mie tutto quello che vinco lo lo do in beneficenza cioè facciamo con i partecipanti facciamo un'asta dico sempre chiedo sempre chi offre e quindi quei soldi poi non li mettiamo in beneficenza e quest'anno abbiamo fatto più di 2000 euro di beneficenza quindi oggettivamente io ho le mie attrezzature spesso e volentieri vinco attrezzature che magari bellissime che non uso e quindi ho optato per questa formula e perché le nostre gare sono sport divertimento ma soprattutto sono beneficenze quando riusciamo magari a dare ma anche il pescatore invece che magari vede l'attrezzatura che gli può servire che gli può interessare magari la riesce ad avere a un prezzo assolutamente migliore perché è un'asta quindi magari la riesce a prendere anche a metà prezzo quindi complimenti ottimo ottimo sistema è una cosa che noi facciamo i pesci le attrezzature solitamente facciamo cerchiamo di fare più beneficenza che possiamo poi ripeto io sono come tutti i pescatori siamo molto rigidi quindi ognuno ha le proprie attrezzature comunque le premiazioni solitamente in questo caso erano molto molto belle quindi comunque sempre tutti inerenti quindi canna e mulinelli sempre tutti da volentino avevamo tutte le pasture di Andrea per tutti i partecipanti e visto come sono state apprezzate in pregara ti posso garantire che le apprezzeranno anche nelle prossime pescate questo secondo me è un ottimo modo per far conoscere un prodotto che ancora oggi magari è poco conosciuto perché con Davide abbiamo parlato in svariate dirette della pastura però c'è tanta gente ancora che non la conosce questo è stato un modo per per dargli uno uno sprint sprint in più e poi la verità è che quando il prodotto è buono devi solo farlo conoscere per il resto poi andrà da solo perché quando le cose funzionano tu devi solo farle provare per il resto le parole contano zero nella pesca solo i risultati e su questa pastura ti posso vi posso garantire che come ci abbiamo messo la faccia altre volte come Davide ci ha messo la faccia perché poi la cosa bella di questa pastura è che vi portate dietro Davide e per la prima volta non parla ce l'avete in barca e sta zitto e poi non vi tocca lo strumento perché lui se sale in barca vi tocca tutti gli strumenti ve li sposta qui invece ce l'avete in barca però in tranquillità e in silenzio questo è assolutamente sicuro non dico una parola proprio guarda sono tipo il santino lì in barca sul barattolino un santino comunque venendo un po' al discorso non è che tanti non conoscono questo prodotto poco ci sono tanti pescatori che non conoscono la pasturazione perché può essere anche un discorso complicato come diceva Fabrizio crearsi una pastura fai da te mettendoci svariati prodotti tanti possono sbagliare la bagnatura tanti possono sbagliare a tirare la pastura mentre con questo prodotto qui avviciniamo molto più diciamo il pescatore che non utilizza la pastura a utilizzarla perché è semplice perché è qualcosa di ottimo come prodotto di materia prima è indiscutibile una meccanica incredibile la che può utilizzare in qualunque situazione di pesca e in più è già pronta all'uso e quindi non ci sono più scuse perché questo basta prenderlo aprirlo utilizzare il prodotto per quello che si vuole utilizzare la quantità che si vuole utilizzare e basta richiudere il secchiello e poi se si vuole riportarlo una volta dopo e quindi ecco si evita di avere il secchio dietro le miscele da fare i vari componenti e tutto c'è già tutto qui dentro in un'unica soluzione è bilanciato questo prodotto tutto quello che mi ha fatto vedere prima Fabrizio faccia vedere le sue miscele ecco diciamo che al 90% sono in questo prodotto qua già pronto all'uso però e quindi ecco diciamo che è una valida alternativa per chi non ha mai utilizzato la pastura in questo caso è molto semplicato il discorso di utilizzare il fish on the road sì poi come dicevi tu secondo me il problema maggiore sta proprio nel fatto che le persone ancora non conoscono la potenzialità della pastura lasciamo perdere la fish on the road l'abbiamo detto ormai si capisce di cosa stiamo parlando ma in generale la pasturazione per alcune tecniche di pesca è fondamentale andare a pescare i tonni senza pasturare vuol dire non prenderne mai nessuno cioè praticamente quasi impossibile a meno che uno non vada a pescare sopra un relitto dove ci sono comunque altri pesci pesce foraggio e magari pesce arriva lì per questo motivo ma sono casi eccezionali andare a fare una pescata a volentino senza pastura vuol dire pescare il 10% rispetto a quello che si potrebbe prendere con la pastura cioè sono questi i rapporti non è che stiamo parlando di va bene prendo un pesce in più no in un caso si prende in un caso non si prende chiaro che bisogna come tutte le cose imparare anche usarla però la prima prova che potete fare è semplicemente aprire il barattolo e sentire il profumo già lì al 50% avete capito di cosa stiamo parlando perché la qualità è talmente elevata che il profumo è veramente molto buono quindi ci sta che dopo i pesci per forza saranno interessati a questa cosa e funziona funziona veramente bene funziona veramente bene quest'estate ci saranno sicuramente delle belle perché ho in mente proprio una gara un un tournament al tonno l'altro anno sono riuscito a usare la Fission Road solo per un giorno non ce l'avevo tutti i tre giorni soltanto l'ultimo giorno e l'ultimo giorno mi ha svoltato completamente la situazione della gara ma di questa gara vi parlerò dopo che avrò fatto la gara perché anche lì siamo in preparazione con Andrea per altri upgrade che per il momento però teniamo segreti perché sono cose veramente qua stiamo sfiorando voi umani non avete visto quello che abbiamo visto noi mettiamola così e dopo la gara faremo vi farò vedere un qualcosa di particolarmente interessante assolutamente Davide posso posso far vedere un'altra cosa allora perché noi alla fine qua stiamo parlando di pesca e pastura e già inizia a essere una cosa un po' per pescatori che già un po' stanno a pescare volevo far vedere un altro prodotto sempre di Andrea che secondo me è il prodotto più semplice da usare quando sei proprio a livello 1 quindi chi sta veramente iniziando a pescare prima l'abbiamo nominato ma come sempre dobbiamo ragionare che non tutti sono proprio bravi allora questo è un altro prodotto sempre di antiche pasture che è una sarda con la rete allora chi inizia a pescare inizialmente può usare questo tipo di prodotto perché è molto più semplice cioè lo tiri fuori è una palla di sardina col condensante all'interno di una calza basta calarlo sul fondo e lo si ferma o sul fondo oppure a 4-5-6 metri dal fondo in base ai pesci che vogliamo andare a prendere io parlo sempre di bollentino perché poi questa si può utilizzare anche per il drifting quindi tenendola molto più in alto e con questo tipo di pastura qui siamo sicuri di non sbagliare la pasturazione perché ce l'avremmo sempre in verticale sotto la barca e lei andrà comunque in corrente questo forse è in assoluto forse il primo step della pastura credo Andrea per chi proprio non sa pescare perché noi parliamo qua pensiamo sempre che chi ha davanti chi ci ascolta magari sia già molto pratico la verità è che noi dobbiamo aiutare chi è poco pratico e questa per me è il primo step una volta che tu impari a usare questa ci sono tutte le altre che sono la Fish on Road oppure in terza battuta anche il mix che vi ho fatto vedere a questo punto non possiamo non parlare assolutamente dei pellet perché se vogliamo parlare ancora di un'evoluzione della pastura dal livello 1 andare un po' più su di livello sempre una pastura molto facile da usare eccola qua ce la sta mostrando Andrea adesso vediamo il sacchetto di nylon ma dentro c'è un retino con i pellet che possono essere naturali o anche con del colorante naturale all'interno rosso e questa qui è una figata perché riesce a rilasciare nell'acqua una quantità costante di pastura ecco un altro problema della pasturazione che non è solo la qualità della pastura la meccanica e tutto ma è quanta pastura si deve usare anche qui troppe volte andando a pescare con gli amici mi rendo conto che anche questo sarebbe un mondo da approfondire perché io non posso andare a pescare un giorno con un chilo di pastura e non posso neanche però pensare di andare a pescare tre ore e usare venti chili di pastura perché in tutti i due casi sarò svantaggiato la pasturazione la quantità di pastura che va messa nell'acqua deve essere bilanciata con il pesce che abbiamo intorno soprattutto per esempio nella pesca dello sgombro se allo sgombro quando andiamo a cacciare lo sgombro diamo troppa poca pastura lui passa prende quei due tre pezzettini che trova e va via non rimane lì se io gli do troppa pastura il grosso degli sgombri continueranno a correre dietro la pastura che non riusciranno a finire immediatamente e si allontaneranno dalla barca anche lì come mi metto in pastura quanta pastura metto ecco per esempio queste reti in pellet ho visto che tante volte hanno risolto il problema perché hanno un tempo una durata che è corretta rispetto alla pescata quanti chili ha una rete un paio di chili mi sembra a due chili poi ecco ho rilascio forzato quindi ecco più di quella non esce e quindi ecco il pesce rimane lì nella zona se non sbaglio vado a memoria adesso perché l'ho usata qualche volta ma dopo ho sempre usato la Fission Road se non sbaglio dura un tre quattro ore un sacchetto messo in acqua si si dipende dalla corrente dipende dal mare dipende normalmente il mare calmo dalle tre alle quattro ore dura esatto con la corrente più sostenuta e poi ecco dosa la pastura cioè non ne dà tanta non ne dà poca e tante volte il pesce rimane proprio attaccato vicino alla rete perché va in prenesia alimentare perché viene dosata a piccole piccole dosi e poi pensa se dire fatalmente a pezzettini e proprio il sgombro o sugarello se li trova proprio in bocca uno a uno capito? l'ho visto fa proprio la scia dove va la scia dietro c'è la scia dei pesci che rimane lì ferma costante fino a che questa praticamente pastura no no era un tipo di pastura che io avevo già utilizzato prima della Fission Road dopo devo essere sincero mi sono trovato molto meglio con la Fission Road per tutta una serie di motivi insomma beh d'altra parte quella ce la siamo creata proprio tipo camicia dal sarto mi sono fatto se ci ho messo la foto è proprio perché ho collaborato in un modo molto stretto con Andrea su quella creazione cioè abbiamo cercato di fare qualcosa veramente di particolare molto particolare diciamo che un basic di pasturazione può essere proprio questa con la rete per chi incomincia adesso perché è molto semplice l'attacchi una sagoletta la cali a un metro due mesi tre mesi sotto la barca non devi fare altro sì infatti secondo me la sarda in rete che mostrava prima Fabrizio è molto adatta al bollentino per pescare in profondità mentre questa in pellet secondo me è molto comoda in superficie proprio allo sgombro o al sugarello appunto tutti questi pesci qua che viaggiano magari più in superficie ecco sì io volevo giovanare proprio questo questo luogo comune che esistesse solamente o la sarda scusa o la sarda in rete perché diciamo prima della fish on road o uno si faceva un prodotto in casa in self made o se no doveva usare o la rete o la sarda e passo tale con quella la fish on road è proprio è anche questo pellet è proprio dato la possibilità proprio di creare un prodotto alternativo rispetto a questo nessuno ci aveva mai pensato prima io e David ragionandoci sopra abbiamo capito un po' per lui io non mi occupo molto del fattore della pesca non sono un pescatore Davide lo sa però sono un tecnico che da 35 anni lavora nelle maniere come nelle pasture lui mi dava un'idea e io tecnicamente gli ho realizzato adesso vi racconto adesso voglio raccontare una parentesi qual è stato lo scoglio più difficile Andrea mi diceva me l'ha ripetuto 150 volte gli ho detto Andrea fai come ti chiedo per favore lascia stare mi fa no ma guarda che i pescatori non possono spendere queste cifre per la pastura perché la fish on road effettivamente è una pastura abbastanza costosa e secondo lui eravamo fuori mercato cioè mi fa guarda che se tu vuoi che io la faccia così 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 purtroppo mi costa perché non posso utilizzare pesce di scarto non posso utilizzare questa cosa non posso usare devo usare le celle frigo devo fare questo devo fare questo devo aggiungerci questi e io ho detto non preoccuparti per il costo te la compro io te la compro io e c'erano già 3-4 amici che gli avevo raccontato sta cosa gli ho detto sentite volete anche voi una parte di questa pastura mi sto facendo fare una pastura così 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 costerà di più rispetto alla pastura normale però avrà queste caratteristiche e su quei 5 amici che ho contattato tutti i 5 mi hanno detto di sì anzi c'è stato uno che io ne prendo un quintale se la fa così subito così sulla fiducia senza neanche provarla e alla fine dopo Andrea cioè a parte che è riuscito comunque a contenere i costi perché all'origine doveva costare ancora di più ma è riuscito veramente facendo i miracoli a tenerla comunque a prezzo accettabile perché mi rendo anche conto che comunque i 20 euro per un barattolino non è che siano pochi però io ho sempre ragionato in questo modo quanto vale il mio tempo che riesco a dedicare al mio sport al mio hobby quanto spendo per la barca quanto spendo solo per il carburante per andare a pescare allora se io faccio una proporzione veramente anche i 20 euro della pasturazione veramente incidono in una frazione di questo se poi quello mi fa veramente la differenza in pesca io sono ben felice di spendere 20 euro ma anche 40 euro se so che ho tante possibilità in più di pescare e questa è una cosa che per tutti quelli che vanno a pescare è una cosa ovvia io i miei amici quelli che sono veramente appassionati di pesca non risparmiano su queste cose cioè tu potrai risparmiare invece di andare a 30 nodi col gommone vai a 25 perché sai che risparmierai 3 litri di benzina a fine della giornata o 5 litri di benzina oppure invece di andare a 30 miglia magari ti fermerai a 20 sempre con il cuore dicendo era meglio che andavo a 30 perché anche questa è una cosa classica però alla fine cosa vado a risparmiare i 5 euro i 10 euro sulla pastura ma non esiste proprio io vi consiglio una cosa per voi che ci guardate ovviamente fate un test provate la fish on rod almeno una volta magari prendetela in società con altre 5 persone e ve la dividete un chilo a testa ma non tanto perché ve lo assicuro fa la differenza provate con un chilo e già con un chilo sono sicuro che pescate molto di più rispetto a qualsiasi altra cosa che avete usato fino a oggi è una pastura che veramente fa la differenza in pesca su tantissime tecniche fino adesso tutte le volte che sono andato a pescare che sia stato a tonni o a sgombri o sul fondo ho visto che la differenza era sostanziale non era una differenza uno dice forse la luna la corrente no la fish on rod ha fatto assolutamente la differenza e anche per me che mi piace lo strumento l'ecoscandaglio e so come usarlo e riesco a vedere la pastura che mi arriva fino sul fondo e vedo i pesci che arrivano in pastura e vedo i tonni che fino al giorno prima non riuscivo a vedere e li riesco a vedere sotto la barca proprio perché una parte della pastura riesce ad arrivare anche sotto la barca per me questa è una soddisfazione che non mi può togliere nessuno adesso non toglietemi l'ecoscandaglio ma adesso quando vado a pescare non toglietemi neanche la pastura perché secondo me è fondamentale anche questa no poi guarda diciamo che il costo di 20 euro è per 5 kg di prodotto quanto costa un chilo di pastura normalmente nel tuo negozio un chilo dipende da da che pastura parliamo ma il problema è che voi avete detto che la pastura costa di più io continuo a pensare che 20 euro per questa pastura non è molto perché se tu vai a comprare la sarda il collante tutti gli additivi spendi molto di più cioè per assurdo io quando vado a farmi una pastura per conto mio spendo 4 volte tanto si poi magari mi avanza qualche prodotto da usare un'altra volta però quando vado a comprare delle pasture vado a spendere anche 80-100 euro a differenza di un bidoncino che ne posso prendere due sono comunque 40 euro secondo me costa di più rispetto a un barattolo classico se lo paragriamiamo all'altro tuo barattolo costa che costa forse 13-14 euro se non ricordo male costano 3 chili sono 3 chili quelle sono 5 chili in più hanno collante peso additivi quindi alla fine se uno fa la somma di tutte queste cose per assurdo la Fisher Road non costa più delle altre e la qualità è anche superiore quindi ci sta quando si parla di materia prima io sto parlando della sardina che è il principale questa sardina che prendo io questa costa 3000 euro a tonnellata non è che si vada a dire si parla di prodotti che vanno a 3 euro il chilo e calcolando che in un secchio di questo qui il 60% è questo prodotto il resto sono frutti e cipenti e tra l'altro che sono anche più costosi della sarda stessa quanti alla fine ecco diciamo che tecnicamente parlando è un prodotto perfetto e poi anche del discorso del prezzo relativo sono 4 euro al chilo e che poi si è una follia ma infatti è secondo me un prezzo giustissimo soprattutto perché ti evita di dover fare un sacco di lavoro perché poi nella nostra vita la cosa che a noi vale di più è il tempo quando tu stai dietro una pastura due ore o perché poi devi lavare tutto pulire fare e molta gente non ha neanche lo spazio per fare questa roba qui tutto quello è tempo che noi andiamo a risparmiare qui ce ne andiamo col nostro bidoncino andiamo a pesca lo usiamo ce ne avanza lo usiamo la volta dopo alla fin fine qui Davide credo che sia d'accordo con me la comodità la facilità è quello che a noi serve non abbiamo più tempo perché ormai noi lavoriamo 20 ore al giorno il giorno che andiamo a pesca vogliamo avere tutto possibilmente pronto per goderci la giornata e per fare una pescata come Dio comanda quindi benvengano i prodotti già pronti se poi costano qualche euro in più non è un problema e io continuo a dire che questa pastura ha un costo tutto sommato in linea con tutte le altre ed è una pastura decisamente superiore come qualità e come prestazioni poi vedi un'altra cosa con Davide quello che parlavamo ti ricordi che tante discussioni abbiamo fatto su questo prodotto era stato proprio della durata del prodotto io dicevo guarda che io uso la sardina fresca questo prodotto non dura la mia paura è che quando sta in un negozio abbia poi dei problemi ma noi gli diamo una scadenza di due settimane di quattro settimane e non posso fare un prodotto che dura quattro settimane io sono stato in stallo circa un paio di mesi per riuscire a risolvere questa problematica qui ho risolto il problema proprio radicalmente studiando qui sopra in modo che questo prodotto ora ha una scadenza che sfiora ai 24 mesi quindi diciamo che ho risolto un grosso problema avendo la sardina fresca capito è stata una bella sfida però sono quelle cose che mi danno soddisfazione perché indubbiamente come quando nasce un figlio per me una nascita è un figlio a 65 anni un figlio c'hai messo un figlio con la barba a te sul barattolino fabrizio io volevo approfittare anche anche se non c'è tra diete quelle pasture ma tanto il canale è mio e posso fare quello che voglio volevo farti vedere una cosina posso? guarda un po' cosa c'è qui adesso faccio partire ti piace? sono qui con le manine sono tutti in diretta riesco a fare tutto qui a Cagliari qui a Cagliari siamo tutti in fibrillazione perché siamo stati forse non so se è il primo o il secondo negozio a cui è arrivato questo gioiello che è le FCV 800 noi ce l'abbiamo ce lo stiamo guardando e io lo monterò nel mio nuovo gommone a fianco a un TZ3 allora tu non hai idea ma forse ce l'hai ma non so quanto perché io me la sto me la sto studiando proprio adesso e mi sono preso tutti i manuali ho anche parlato con addirittura con con il product manager della Foruno perché c'erano certe cose che non riuscivo a capire bene cosa riuscivo a fare cosa non riuscivo a fare e le novità su questo strumento sono veramente tantissime e veramente importanti a parte che lo puoi interfacciare con il GP 1971 lui è in grado di comunicare con il GP 1971 a parte che lo puoi vedere anche sul cellulare lo puoi vedere sull'iPad puoi lavorare direttamente su lui ma vedere tutto lo schermo direttamente sull'iPad è con una qualità anche molto elevata ma ci sono delle chicche che nessuno sa devo dire è che la cosa più divertente io quando gliel'ho detto la furono ma scusa ma perché questo non l'ho dita eh ma no ma dopo sai chissà quanto ne vendiamo siamo già pieni di lavoro fino così ma come ti dico solo una cosa questa è una roba magari un po' più evoluta ma io quando l'ho sentita sono rimasto basito veramente questo strumento qui si è abbinato con alcune sonde non con tutte a parte che gestisce due sonde la sonda monotono più la sonda chirp contemporaneamente e con la monotono riesce a avere l'analisi del fondo e con la chirp invece hai tutti i dettagli i target eccetera quindi riesce a mettere insieme le due cose che fino in questo momento non potevi fare perché tu anche col TZT3 se volevi avere l'analisi del fondo dovevi collegarci una sonda 50-200 monotono se volevi avere il dettaglio del chirp dovevi metterci una sonda chirp non potevi fare la cosa insieme cioè tutte e due le cose insieme no? e questa è già una cosa una novità ma la novità che è già dentro questo strumento ma che nessuno la dice vabbè è una roba un po' più di nicchia ma questo qui ti dà anche un terzo valore cioè oltre ad avere l'AQFISH il bottom discrimination hai anche il hardness cos'è l'hardness? la durezza del fondo attenzione non ce l'hai qui a video ce l'hai in uscita dati questo strumento l'FCV 800 non il 600 soltanto dell'800 stiamo parlando ha sia l'amnea 2000 2000 l'amnea 2000 classica e dopo anche l'amnea 0183 che è quella più vecchia sull'uscita della 0183 hai questo dato hardness legato anche alla posizione tu vai con questo dato nel time zero professional e tu riesci a farti la mappa di dove stai pescando con le colorazioni in funzione della durezza del fondo non so se ho reso l'idea tu vedi la zona dove c'è la ghiaia la roccia la sabbia il fango disegnato direttamente sulla mappa mentre tu stai scandagliando quindi oltre a farti il PBG cioè il personal baltometric generator cioè vedere l'orografia del fondo che per l'amor del cielo è fondamentale ma in un golfo come quello di Trieste l'Adriatico dove ci sono le plegiure cioè ci sono praticamente delle zone dove ci sono delle rocce affioranti ma sono tutte allo stesso livello della sabbia della ghiaia riuscire a vedere le differenze di tipo di fondo ti cambia la vita veramente e questa è soltanto una delle cose che è in grado di fare questo strumento che altri strumenti non fanno ma non ci arrivano neanche vicino proprio stiamo parlando di voi umani cose che non avete mai visto io non vedo l'ora adesso di mettere anche in mare adesso ce l'ho in studio sto facendo dei video che che sto girando proprio per furuno che vorrà mostrare questo strumento ma le potenzialità sono veramente incredibili perché ha queste due tre quattro chicche che sono delle vere chicche che fanno veramente la differenza in pesca e uno già con questo strumento con un GP ha un bellissimo combo perché i due strumenti comunicano quindi riesci a fare delle cose un po' più particolari se poi hai la possibilità di avere questo strumento con un time zero soprattutto la pesca professionale questo è stato pensato per la pesca professionale sicuramente ma anche per chi pesca in Adriatico anche lo sportivo avere questa funzionalità e riuscire a riconoscere le differenze di durezza quindi materiali diversi sul fondo puoi immaginare il valore che può avere insomma io per non sbagliare nel gommone che mi sta per arrivare metterò sia il TZT che l'FCV 800 così siamo tranquilli abbiamo un po' di tutto ma metti anche il DFF 3D? c'è già ah ecco ok è pronto ma insomma mi stai preparando la barca per quando vengo a trovarti fondamentalmente manchi solo tu per venire a provarlo voglio proprio vedere come lo setti questa volta lo strumento perché l'ultima volta che sono andato a pescare con voi non ero troppo contento devo dire no ma tu sei venuto col gommone di Giuseppe io non c'entro nulla va bene verremo verremo col tuo gommone non c'è nessun problema ovviamente ovviamente questa volta non ti puoi esimere ma ti toccherà presentarti nel mio canale per una volta a parlare dell'FCV 800 molto volentieri lo sto studiando approfonditamente ci sono ti dico ci sono tante cose che io spero di non impressionare le persone perché dopo succederà questo diranno ma questo strumento non è per me è troppo difficile invece no il strumento è molto simile nel menu all'FCV 800 il 588 il 587 è molto simile però ha delle caratteristiche che sicuramente lo rendono contemporaneamente anche diverso ecco tutto qua aspettiamo che tu studi no no ti aspettiamo sono sommati per la pesca faremo presto questo video insieme Andrea noi ci vediamo presto fine mese allora anche per questo incontro con i test dei nuovi e delle nuove cose e io non posso fare altro che ringraziarvi siete stati come sempre gentilissimi a venire ospiti sul mio canale e ci vediamo presto grazie alla prossima un saluto a tutti grazie mille ciao a tutti ciao 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 ciao